Ok, facciamo la correzione della verifica che abbiamo fatto tempo fa sugli angoli associati. C'erano dieci esercizi, cominciamo dal primo. Il primo dice, che mi scrive in rosso, ci osserva la figura qui accanto, se l'angolo alfa individua il punto P, che è questo, quale punto definisce l'angolo che ha i valori di seno e coseno opposti? Allora, come vi ricordate, dagli angoli associati, il seno di pi greco più alfa vale meno sen alfa e il coseno di pi greco più alfa vale meno cosen alfa. D'altro canto, essendo cosen alfa e sen alfa la scissa e l'ordinata di P, il punto che ha coordinate esattamente opposte è quello diametralmente opposto, cioè quello individuato dall'angolo pi greco più alfa. C'è il punto P2, quindi la risposta corretta era B, il punto P2. Ok, se è tutto chiaro procedo. E andiamo a fare l'esercizio 2. qui si chiedeva di semplicemente di calcolare i valori di seno, coseno e tangente di questi angoli. Allora, il seno, vediamo se riesco a starci qua, di 5 quarti pi greco, posso pensarlo come il seno di 5 e 4 più 1, quindi è pi greco più pi greco quarti, che per quello che abbiamo prima visto vale meno il seno di pi greco quarti, cioè meno radici di due mezzi, perché pi greco quarti e 5 quarti pi greco sono angoli diametralmente opposti. Poi abbiamo il coseno di due terzi pi greco, qui due posso pensarlo come 3 meno 1, quindi questo è il coseno di pi greco meno pi greco terzi e facendo riferimento alla figura di prima, vedete che l'angolo pi greco meno alfa, che è questo, ha il coseno opposto a quello di alfa, quindi questo vale meno il coseno di pi greco terzi e quindi meno un mezzo. Infine abbiamo la tangente di 11 sesti di pi greco, 11 è 12 meno 1, quindi è 2 pi greco, 2 pi greco meno pi greco sesti, la tangente è periodica di periodo pi greco, quindi 2 pi greco posso ignorarlo, quindi questo vale meno la tangente di pi greco sesti, cioè meno radice di 3 terzi. Tutti questi valori, in questo caso, sono tutti negativi, tutti meno. Se non ci sono domande, proseguo. Terzo esercizio dice semplifica l'espressione qui riportata. Allora, qui è sufficiente ricordarsi che il seno di pi greco meno alfa, essendo la prima figura, che è quella che ci serve di più, quindi abbiamo, questo è il punto individuato dall'angolo alfa, pi 1 è pi greco meno alfa, come vedete hanno lo stesso seno, quindi alfa e pi greco meno alfa hanno lo stesso seno, quindi questo vale sen alfa. Poi, il coseno di pi greco mezzi meno alfa, ricordate, alfa e pi greco mezzi meno alfa sono angoli complementari e il seno e il coseno sono scambiati, quindi questo vale sen alfa. E poi, invece, il seno di meno alfa, o 2 pi greco meno alfa, è meno sen alfa. Vediamo nella figura di prima, qui abbiamo alfa e meno alfa, vedete che hanno seni opposti, il seno è l'ordinata del punto, no? L'ordinata di pi è positiva, quella di pi 3 è esattamente opposta a quella di pi. Quindi, in totale, abbiamo che dal sen pi greco meno alfa vale sen alfa, più coseno di pi greco mezzi meno alfa vale ancora sen alfa, e poi 2 per meno sen alfa fa meno 2 sen alfa. Orale della favola si semplifica tutto e fa 0. Semplifichiamo in verde, to. Ok? No, volevo il rosso. Quindi questa espressione vale 0. Poi, esercizio numero 4, qual è il valore dell'espressione qui indicata? Allora, qui abbiamo il senno di x più 3 mezzi pi greco, o 3 mezzi pi greco più x, e quindi questa qui forse conviene farla più sotto, la copio e la faccio dove un po' più di spazio. Ecco, vado a farla alla fine. Quindi qui aggiungo una pagina. Ecco, fatto. e la metto qua. Questo era l'esercizio 4, se ne ricordo male. Allora, qui abbiamo il cerchio goniometrico. Se questo è l'angolo alfa, 3 mezzi pi greco è questo punto, e più, anzi l'angolo x, scusate, questo è 3 mezzi pi greco più x. Il seno di 3 mezzi pi greco più x è l'ordinata di questo punto, quindi è questo segmento, che è negativo, che corrisponde alla scissa di x. Quindi, seno di 3 mezzi pi greco più x vale meno il coseno di x. Ok? Poi, il coseno dello stesso angolo, che quindi è l'ascissa, che è questo segmento, vale l'ordinata di x, quindi questo vale più il seno di x. Il seno di pi greco è x meno pi greco. Qui va cambiato di segno, quindi questo vale il seno di meno pi greco meno x. Quindi, il seno di meno un angolo è meno il seno dell'angolo. E il seno di pi greco meno x vale sen x. Quindi, in totale, questo tutto vale, il meno rimane, quindi meno sen x. E poi abbiamo il coseno, fatemelo scrivere qua sotto, il coseno di x meno pi greco, che vale, quindi posso pensarlo come il coseno di meno pi greco meno x. Ma se cambio il segno all'angolo, il coseno non cambia, quindi qui ho il coseno di pi greco meno x, che vale meno cosen x. Quindi, la nostra espressione in totale la possiamo sostituire con questa. Meno cosen x, che viene da seno di x più 3 metri pi greco, poi più sen x, poi abbiamo meno sen x, e poi meno cosen x. I due segni si cancellano, perché sono opposti, mentre i due coseni hanno lo stesso segno. Quindi qui rimane almeno 2 coseno di x, che corrisponde, mi pare, alla risposta, dove era, ecco la qua, la c, meno 2 cosen x. la risposta è c, segniamolo anche qua sotto. Ok, siamo all'esercizio 5, se non ricordo male, sì. Calcola il valore di questa espressione, anche questa qua, la facciamo sotto, che c'è più spazio. Ok. Ricolliamo qui. con l'esercizio numero 5. Qui abbiamo quindi il seno di, scusate, di 7 terzi pi greco, che posso pensarlo come 7 è 6 più 1. Quindi questo è il seno di 2 pi greco, 6 di più 3 fa 2, più pi greco terzi. Quindi essendo il seno periodico di periodo 2 pi greco, questo vale quanto il seno di pi greco terzi, cioè radice di 3 mezzi. Poi abbiamo per la stessa ragione il coseno di 7 terzi pi greco è il coseno di 2 pi greco più pi greco terzi, e questo vale quanto il coseno di pi greco terzi, cioè un mezzo. e poi c'è il seno di 7 sesti pi greco, il seno di 7 sesti pi greco, qui 7 e 6 più 1, quindi questo è il seno di pi greco più pi greco sesti, che vale meno il seno di pi greco sesti, cioè meno un mezzo, poi coseno di 7 sesti, coseno di 7 sesti pi greco, che è il coseno di pi greco più pi greco sesti, quindi meno coseno di pi greco sesti, cioè meno radice di 3 mezzi. Quindi sostituendo abbiamo nella prima parentesi radice di 3 mezzi più un mezzo, quindi abbiamo radice di 3 mezzi più un mezzo, chiuso, per, secondo parentesi c'era, il seno di 7 sesti pi greco che vale meno un mezzo, e poi c'era un meno, quindi meno meno pi greco radice di 3 mezzi fa più radice di 3 mezzi, perché qui ricordo che davanti a questo coseno c'era un meno, quindi meno qui, un meno qui, due meni fa più. Chiudo la parentesi, questo è un prodotto notevole, che è del tipo a più b per a meno b, di questo posso scriverlo in questo modo. Forse è più semplice. Allora, radice di 3 mezzi più un mezzo per radice di 3 mezzi meno un mezzo, quindi viene il quadrato di radice di 3 mezzi meno il quadrato di un mezzo, a più b per a meno b, questo è 3 quarti meno un quarto, 3 meno 1 fa 2, 2 quarti per gli amici un mezzo, quindi il valore di questa espressione era un mezzo. E questo chiude l'esercizio 5, passiamo al 6, vediamo dove è il 6, eccolo qui, anche questo lo copio, facciamo sotto dove c'è un po' più di spazio, devo incollarlo qui, ecco dice, osserva attentamente la figura e calcola il valore delle funzioni goniometriche se ne cosina tangente dell'angolo alfa e dell'angolo beta. ma come vedete, l'angolo alfa, che è questo, individua un punto P1, fatemelo scrivere, alfa individua il punto P1, la cui ascissa è meno 3 quarti e l'ordinata lo troveremo dopo. Siccome il punto sta sulla circonferenza goniometrica, allora la scissa del punto è il coseno dell'angolo alfa, mentre l'ordinata è il seno. Per cui il coseno di alfa abbiamo subito il suo valore, vale meno 3 quarti. Il seno di alfa, alfa si trova, individua un punto che si trova nel secondo quadrante, il seno è positivo, quindi vale più, usando la prima relazione fondamentale, più la radice quadrata di 1 meno il coseno di alfa al quadrato, cioè più la radice quadrata di 1 meno meno 3 quarti alla seconda. Quindi abbiamo la radice di 1 meno 9 sedicesimi, cioè la radice quadrata è di 16 meno 9 sedicesimi, 16 meno 9 facetti, quindi la radice di 7 fratto 4. Quindi il seno di alfa vale la radice di 7 fratto 4. E la tangente di alfa, che sarà sen alfa fratto cosin alfa, vale radice di 7 quarti fratto meno 3 quarti, se non sbaglio, sì, meno 3 quarti. Il 2 quarti si semplificano, quindi mi rimane meno radice di 7 terzi. quindi abbiamo il seno, il coseno e la tangente di alfa. Per quanto riguarda beta, beta individua un punto, eccolo qui, che è il punto P2, che sta nel terzo quadrante, che ha la stessa scissa di P1. ok, quindi ha lo stesso coseno, ma il seno di valore opposto, perché sta nel terzo quadrante. Qui beta individua il punto P2, che appartiene al terzo quadrante, inoltre P2 ha la coordinata x meno 3 quarti. E qui manca quindi questo è il coseno di beta. Per cui il coseno di beta vale meno 3 quarti. Il seno di beta lo otteniamo come prima, però stavolta, stando nel terzo quadrante, il seno è negativo, quindi sarà meno la radice di 1 meno meno 3 quarti alla seconda. Non serve di fare tutti i calcoli, queste vale quindi meno radice di 7 quarti. Per cui la tangente di beta che vale sen beta fratto coseno di beta vale meno radice di 7 quarti fratto meno 3 quarti. Meno diviso meno fa più, quindi questa è più radice di 7 terzi. e chiaramente né alfa né beta sono angoli notevoli perché nessun angolo notevole ha seno che è meno 3 quarti o coseno che è meno 3 quarti, quindi d'altro canto non era neanche richiesto andare a trovare i valori di alfa e di beta, non serviva. qualcuno ha provato a trovare coseno alfa e alfa e beta invertendo la relazione ma ovviamente ottenete un angolo approssimato che dà valori approssimati e quindi non esatti, non corretti. Quindi potendo trovare i valori esatti in questo modo questa è la risposta corretta, tutto il resto sono valori approssimati. Ok, quindi quella non era una strada percorribile. Detto questo l'esercizio è chiuso passiamo al numero 8 se non sbaglio troviamo il numero 8 eccolo qui prima c'era il 7 che lo scrive questo era il 6 il 7 è questo qual è il valore dell'espressione qui riportata la copio e la facciamo sotto per non abbiamo più spazio per fare così magari ecco ok mi arrangisco un po' ora qui abbiamo il seno di 11 sesti pi greco 11 sesti è 12 meno 1 quindi questo è il seno di 2 pi greco meno pi greco sesti che vale meno il seno di pi greco sesti cioè meno un mezzo poi c'è il coseno di 3 quarti pi greco che posso scrivere come 3 e 4 meno 1 quindi il coseno di pi greco meno pi greco quarti quindi pi greco quarti e pi greco meno pi greco quarti sono angoli supplementari per cui il coseno cambia segno quindi questo è meno il coseno di pi greco quarti cioè meno radice di due mezzi e infine il seno di pi greco quarti che è un angolo notevole che è più radice di due mezzi per cui l'espressione diventava al posto del primo termine mettiamo meno un mezzo meno un mezzo per cioè una parentesi quadra coseno di 3 quarti pi greco cioè meno radice di due mezzi e poi meno il seno di pi greco quarti quindi ancora meno radice di due mezzi ok qui quindi abbiamo meno un mezzo qui possiamo raccogliere un meno e qui abbiamo mezza torta più mezza torta fa una torta intera quindi metà di radici di due più un'altra metà di radici due fa radici di due i due meni fanno più quindi abbiamo più un mezzo per radici di due cioè radici di due mezzi quindi la risposta se non ricordo male dove l'esercizio eccolo qui era la risposta a radici di due mezzi vediamo qua e segniamo la A poi esercizio mi pare un cavallotto quello del triangolo se non sbaglio eccolo qui abbiamo anche questo andiamo in fondo vediamo qui considero la figura qui di portata e calcolo il valore del coseno dell'angolo gamma gamma è quest'angolo quindi l'angolo esterno a beta ci chiedono quant'è coseno di alfa sapendo che il coseno di alfa vale 12 tredicesimi ma qui gamma vedete l'angolo esterno a beta quindi da qui abbiamo che beta più gamma fa pi greco quindi gamma vale pi greco meno beta beta però è l'angolo complementare ad alfa cioè alfa più beta fanno pi greco mezzi perché sono i due angoli acuti in un triangolo rettangolo l'angolo in rosso è retto di conseguenza beta vale pi greco mezzi meno alfa mettiamo insieme queste due relazioni abbiamo che gamma vale pi greco meno beta che è pi greco mezzi meno alfa e quindi gamma vale pi greco meno pi greco mezzi meno meno fa più alfa cioè pi greco mezzi più alfa quindi il coseno di gamma è il coseno di pi greco mezzi più alfa e questo vale il seno il seno di anzi scusate per come dice più alfa viene il secondo quadrante vale meno sen alfa ma noi sen alfa non ce l'abbiamo abbiamo il coseno di alfa che è 12 terzi quindi alfa che è un angolo acuto quindi sta nel primo quadrante quindi il suo seno è positivo il seno di alfa lo troviamo come più radice quadrata di 1 meno il coseno che è 12 tredicesimi se non mi ricordo male alla seconda quindi qui abbiamo più radice quadrata di 1 meno il quadrato di 13 alla seconda qui il quadrato di 12 è 144 quindi abbiamo radice quadrata di 169 quindi 169 meno 144 che fa 25 quindi abbiamo 25 fratto 169 per gli amici 5 tredicesimi quindi il coseno di gamma vale meno 5 tredicesimi dato che il coseno di gamma è meno sen alfa ok quindi la risposta era la tra le varie opzioni possibili era la eccola c questa è una risposta c fatemelo riscrivere risposta c e siamo arrivati all'esercizio 9 ok vediamo 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 ecco anche questo è abbastanza semplice andiamo a ricopiarlo qua sotto grandisco un poco 15 osserva la figura sappiamo che la tangente dell'angolo beta vale 4 terzi calcola la tangente dell'angolo delta l'angolo delta è supplementare a beta quindi beta più delta fa pi greco per cui delta posso pensarlo come pi greco meno beta quindi la tangente di beta non è altro che la tangente di delta scusate un istante solo ok quindi la tangente di delta vale la tangente di pi greco meno beta e che questa è meno la tangente di beta quindi vale meno il valore 4 terzi ok ok detto questo passiamo al numero 10 l'esercizio 10 eccolo qui lo copio lo incolliamo qua in fondo chiedeva se questa espressione è corretta oppure no allora il seno di meno 7 sesti pi greco essendo l'angolo negativo il segno meno rimane è meno il seno di 7 sesti pi greco 7 sesti e pi greco più pi greco sesti quindi questo è meno il seno di pi greco più pi greco sesti e questo qui è meno il seno di pi greco sesti quindi qui ho due volte meno che fa più il seno di pi greco sesti che vale più un mezzo l'altra parte abbiamo il coseno di coseno di tredici terzi di pi greco qui il segno meno è rilevante perché il coseno di alfa è uguale a coseno di meno alfa quindi questo è il coseno di tredici terzi di pi greco questo 13 e 12 più 1 quindi questo è il coseno di 12 più 1 terzi pi greco ma 12 diviso 3 fa 4 quindi il coseno di 4 pi greco più pi greco terzi il periodo è 2 pi greco quindi il 4 pi greco possiamo ignorarlo quindi questo è il coseno di pi greco terzi che fa più 1 mezzo quindi abbiamo un mezzo a sinistra e un mezzo a destra l'espressione era corretta era valida e questo conclude la correzione grazie dell'attenzione alla prossima